Buonasera comandatori Ma ha detto di entrare? Entra, no? Buonasera comandatore Come sta comandatore? Non vuol sedersi a un tavolo? Questa sera abbiamo uno spettacolo di varietà eccezionale L'ombrello signora Da questa parte prego signora Va chi è? Desidera lei Dai, mettiti lì Muoviti Saccomoni Signore e signori la prima parte del nostro programma è terminata Ma prima di iniziare le danze desiderai mandare un saluto Anzi un applauso al nostro illustre ospite che c'è ora con la sua presenza Che te ne ho fatto le mani purì Alberto Ragazzi mambo numero 26 Senta, mi faccia un regalo Venga al nostro tavolo Ci sono un sacco di amici che vorrebbero conoscere La prego, venga, venga Non posso Sono con la signora Senta, mi faccia un sacco di amici che vorrebbero conoscere Senta, mi faccia un sacco di amici che vorrebbero conoscere Senta, mi faccia un sacco di amici che vorrebbero conoscere Senta, mi faccia un sacco di amici che vorrebbero conoscere Senta, mi faccia un sacco di amici che vorrebbero conoscere Senta, mi faccia un sacco di amici Ah, sì, basta, andiamo via Buonasera, comandatore Dai, monta, sbrigati Hai cenato? No, sì, cioè alle otto Beh, adesso andiamo a cena Come? Andiamo a cenare Ah, bene E dov'è che andiamo? A casa Avanzagalle, sapete chi è questo? Allora 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 Grazie.